Brown Wolverine, Luca Comics 2018, eccolo qua, una delle statue più attese da parte dei fan di Wolverine, prodotta XM Studios, prezzo un po' strano, 1.020 euro, sarebbe stato più carino, siccome è un 999, almeno, mentre poggia su questo tetto giapponese, quindi con una statua che rappresenta questi pesci stili giapponesi e un elmo medievale, quindi medioevo giapponese, andiamo a vedere i dettagli della statua di Wolverine, guardate qua, molto molto cattivo e aggressivo, con le sue espunzioni in adamantium, che non sono in adamantium ma niente, però realizzati in metallo vero, posa molto bella, molto dinamica, guardate, mi sta slanciando, bella texture per quanto riguarda la divisa, l'abito, quindi che ricrea bene sia la parte del giallo o del tessuto, ma anche la parte, diciamo, in pelle, qua, la parte marrone. Testa intercambiabile, qui ci sarà una seconda testa alternativa, quindi si potrà scegliere se spolo con maschera o senza maschera. veramente bella, guardate la posa da davanti, notevole come statua. Dal vostro Battle è tutto, ciao!